Il sistema di protezione civile è fatto in modo tale da avere diverse fasi dell'emergenza. C'è una prima fase in cui si va a fare la ricerca delle persone disperse sotto le macerie, una seconda fase in cui si mettono in sicurezza gli edifici, una terza fase in cui si fa la valutazione del danno e poi c'è la ricostruzione che è una fase lunghissima. Noi diciamo che in questo momento siamo ancora nella prima fase. C'è anche un momento dove ci sono un gruppo di persone che è notoriamente quello legato al volontariato di protezione civile che è attrezzato per fare fronte a quelle che sono le esigenze delle persone che hanno subito l'emergenza. Per cui non ci sono esigenze particolari per quanto riguarda il contributo che da fuori le persone possono dare. Tanto è vero che questo non è stato richiesto. È vero invece che stanno arrivando numerosissime telefonate anche a me da parte di enti, da parte di privati che chiedono di poter partecipare a una sorta di gara di solidarietà e che mettono a disposizione di tutto di più. Questo non è stato richiesto. Questo proposito diciamo che la Regione Lazio ha fatto un fondo per poter fare dei versamenti per chi lo volesse. Per quanto riguarda invece quello che molti chiedono di mandare masserizie o anche coperte e tutto quanto diciamolo chiaramente non ce n'è bisogno. È lì dove le organizzazioni, gli enti pubblici si attrezzano per fare questo. La Regione Lazio attraverso i comuni si sta attrezzando per individuare, ha già individuato degli edifici per ricevere questi beni e quindi di utilizzarli per esempio per la mensa oppure le coperte lì dove possono servire in più all'interno del campo di accoglienza. In questo momento quello che si può fare ci stiamo pensando le istituzioni con tutte quante le organizzazioni di volontariato che supportano. La cosa più giusta da fare per le persone che vogliono dare una mano magari è donare dei soldi che potrebbero essere utilizzati in un secondo momento? Questa può essere una valutazione ma un'altra cosa ne approfitto nel dire che bisogna evitare di venire in queste zone in questo momento per non contribuire ad accrescere quindi il traffico che già si manifesta sulle strade.